magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale nel video di oggi andiamo con fanta consigli in pillole più i miei indici di schierabilità intanto ancora non avete capito come si guardano gli indici è semplicissimo ragazzi c'è un voto da 1 a 10 più il voto è alto di quel giocatore più quel giocatore dovete schierarlo in questa giornata altra cosa ragazzi mi raccomando di lasciare un bel like di iscrivervi al canale mi raccomando il pulsantino qui è fighissimo iscriviti perché oggi dalle ore 14 sarò in live qui su youtube per aiutarvi per sciogliere i dubbi di formazione faremo una live di almeno un'oretta e mezza più persone ci sono in live più la live dura perché devo rispondere a tutti gli iscritti poi ci sposteremo anche sulla piattaforma viola dove continueremo per 20 minuti per cercare di aiutare veramente tutti come sempre è stato una live anche su fanta lab quindi potete farmi le domande anche lì altra cosa vi ricordo che ieri è uscito l'uvumbo su starks ancora ci sono un 2 milioni di token quindi se volete entrare ragazzi è a un prezzo veramente regalato perché l'uvumbo a 0.18 è un affare sia per chi vuole giocare al fanta calcio per schierarlo al fanta starks ma anche come investimento futuro perché è un giocatore che sicuramente triplicherà il suo valore nel giro di poco quindi se volete entrare link in descrizione se depositate solamente già 20 euro starks ve ne regala 30 un'offerta straordinaria perché meglio anche delle scommesse sportive perché di solito al massimo vi danno il doppio qui siamo a oltre il doppio di bonus vi ricordo anche ragazzi che ieri è uscito il video delle top 11 l'altro ieri mercoledì sono usciti i fanta consigli quelli lunghi ho fatto uscire anche 4 shorts sia su youtube sia su tiktok di cui uno è andato virale infatti abbiamo preso in neanche due giorni oltre 200 iscritti su tiktok quindi siamo alla soglia quasi dei 1000 iscritti venite a seguirmi perché ci saranno le live anche lì ma cominciamo subito allora si comincia oggi ore 18 e 30 con fiorentina torino partita bella tosta in cui secondo me non ci saranno tantissimi gol vedo leggermente favorita la viola per mettere racciano in porta si può mettere l'ho messo anche tra i consigliati che di solito i portieri non li metto mai il toro fa fatica in trasferta solo se gol fatti io schiero del racciano in difesa ho messo biraghi in più di tutti perché potrebbe essere decisa da un piazzato questa gara sia da una posizione diretta ma anche da un colpo di testa magari di milenkovic come può essere martinez quarta che è recuperato centrocampo ovviamente più di tutti mi piace gecko bonaventura ma la scommessa è proprio riccardo sottil giocatore che calcia tantissimo in porta anche se ancora in termini di bonus non ha carburato davanti beltran è più schierabile secondo me di un zapata o di un sanabria anche perché la porta ha iniziato a vederla e quindi lo metto non sarà una partita semplicissima per lui perché ovviamente dall'altra parte verrà marcato da un certo buongiorno che è sempre uno dei migliori difensori da andare a mettere se abbiamo un modificatore della difesa mi intriga la scommessina Bellanova dietro centrocampo ho messo Ilic al pari di Vlasic perché Vlasic sicuramente è più offensivo però Ilic sta accacciando tanto in porta all'ultima segna è vero che magari era un cross però ci aveva provato anche da piazzato ci aveva provato anche con qualche altro tiro sta accacciando tanto e ovviamente arrivano anche i buoni voti davanti zapata e sanabria diciamo sono dei giocatori schierabili ma questa settimana non sono tra le migliori scelte che possiamo fare l'altro antissimo sempre 18.30 è Napoli-Monza qui ho messo un 1-0 non so onestamente che tipo di partita possa uscire perché il Napoli è in difficoltà perché il Monza è in trasferta fa fatica quindi sono andato a limitarmi sul risultato potrebbero uscire secondo me in questa partita anche 5-6 gol come un 1-0 1-0-0 il Napoli ho messo dietro più di Lorenzo però non è neanche lui in un momento di forma buono perché il Napoli sta attraversando un momento critico centrocampo ci ho messo la sellina su Zambanghissa perché forse al centrocampo è quello più in forma anche se non è un centrocampista da bonus ovvio che metto Zielinski come giocatore maggiormente consigliato ma occhio all'Iström perché potrebbe essere giunta la sua or quindi potremmo vederlo dal primo minuto visto che mancheranno sia Politano che Ozymen io lo vado a mettere se ce l'ho e davanti ora danno il Raspadori in vantaggio su Simeone non lo so se sarà questa la scelta tanto avremo le ufficiali secondo me chi gioca a punta centrale nel Napoli si deve andare a mettere e poi Kovara ovviamente lui è sicuro titolare e si schiera lato Monza qui direi Kiriakopoulos dietro perché è uno che può spingere uno che ci può portare qualcosa in chiave assist più che gol centrocampo col Pani l'ho messo ovviamente ribassato rispetto ad altre partite perché non è facile questa contro il Napoli però gli ho dato sempre un bel 7 poi Pessina 6.6 perché ovviamente è il rigorista della squadra anche se il Monza non sta prendendo tantissimi rigori sugli attaccanti onestamente andrei su altro Genoa Inter altra partita in cui non è facilissimo andare a indovinare il risultato esatto settimana scorsa siamo stati anche bravi perché due li abbiamo presi e tantissimi ci siamo andati vicinissimo prendendo magari le reti di una squadra e sbagliandone di uno l'altra e per me questa è una partita in cui l'Inter può finire 0-2 1-2 e lato Genoa dietro nonostante manchi Lautaro Martinez forse l'unico che si potrebbe mettere in caso di necessità può essere Dragosin e nel centrocampo sicuramente quello da mettere anche se l'Inter è Gudmundson perché sfido io ad avere un centrocampo in cui potreste andare a pancare Gudmundson è vero che l'Inter però è vero pure che quello è il miglior centrocampista che possiamo andare a schierare al fantacalcio su Malinowski dipende un po' dalla posizione in campo perché se mi fa la mezzala non mi fa impazzire se giocasse invece trequartista sarebbe schierabile ugualmente lato Inter Sommer in porta per me si può mettere perché l'Inter ha preso solo due gol e sei clean sheet è una squadra che... due gol in trasferta ragazzi parlo sempre di trasferta quindi è un portiere che si mette sempre Bissek è la scommessa dietro che mi piace di più Carlos Augusto l'ho messo anche lui alto perché finalmente può essere titolare Acerbi, Darmian, anche lo stesso bastoni, certezze da modificatore centrocampo c'è la Nolo già solo per i rigori si mette assolutamente ma bene anche Barella perché ultimamente anche se non sta calciando tantissimo in porta per ora arrivano i gol e davanti Turam Arnautovic metto un po' più Turam perché è un giocatore con una continuità impressionante ma schierabilissimo anche Arnautovic Lazio Frosinone questa è una partita in cui vedo la Lazio favorita dietro devo dire non mi fanno impazzire i difensori della Lazio infatti il giocatore più alto ha messo prove dell'importa Pellegrini secondo me è schierabile l'unica cosa che un po' mi preoccupa è che giocherà proprio dal lato di Sule e in fase difensiva potrebbe fare leggermente fatica centrocampo Guendosì e Zaccagni assolutamente da mettere Guendosì ovviamente è più una scommessa Zaccagni è la certezza in questo momento anche perché potrebbe essere il rigorista della Lazio Felipe Anderson si giocherà il posto con Isaksen quindi guardiamo questo che è importante sapere se è un giocatore di partitolare o meno e Tlati Castellanos a me piace gli ho dato sette forse potrei anzi direi di mettergli anche qualcosina in più perché è un giocatore che deve far meglio e sicuramente il Frosinone subendo sedici gol in otto partite è una squadra che subisce tanto in trasferta lato Frosinone eviterei il portiere assolutamente dietro forse l'unico schierabile potrebbe essere Monterisi che è pur sempre un giocatore che qualche gol ha fatto qualche assist centrocampo di questi devo dire che è l'unico che si può andare a mettere forse a lui che è un giocatore che potrebbe potrebbe contendere i rigori o comunque è un giocatore che si sa inserire avere partito fortissimo prima dell'infortunio si può mettere e davanti direi assolutamente sulle si può andare a schierare in base un po' all'attacco che abbiamo anche se questa settimana non è come dire obbligatorio andarlo a schierare perché ci possono essere alternative low cost anche migliori in questa giornata anche se sulle è poi un giocatore sempre che il voto lo porta Atalanta-Lecce è una partita in cui io vedo l'Atalanta favorita non lo so mentalmente ho l'impressione che questa partita si possa sbloccare nel secondo tempo e che l'Atalanta la possa vincere 2-0 io Carnesecchi in porta Carnesecchi barra musso perché ancora non sappiamo con certezza chi giocherà non mi dispiace pensando che possa subire massimo un gol dietro Zappacosta per il bonus mi piace però lo metto dietro a Ruggeri e lo metto anche dietro a Colasina c'è un giocatore da modificatore è molto forte di testa centrocampo più copmainers di tutti ma giocasse De Ketelare si può mettere anche lui così come la scommessina Ederson è molto intrigante davanti Luckman dovrebbe essere la certezza ed è quello da mettere assolutamente su Scamacca potrebbe partire di Tolare secondo me se la giocherà con De Ketelare in questo momento sono d'accordo con Fantalab ha più possibilità di partire dal primo Lato Lecce qui secondo me i giocatori maggiormente schierabili sono due Strefezza a centrocampo perché è pur sempre rigorista perché dovrebbe partire dal primo e quindi lo andrei a mettere e Piccoli da Ex può essere un giocatore se non abbiamo grosse alternative da andare a rischiare vi ricordo un bel like ragazzi di iscrivervi al canale anche perché i like portano bene e poi se siete iscritti al canale alle 14 venite in live e fatemi tutte le domande che volete se avete dubbi ancora su chi schierare Cagliari-Empoli questa è una bella lotta salvezza vedo il Cagliari rettamente favorito perché il Cagliari è in ripresa dopo un avvio veramente complicato e l'Empoli in trasferta fa una fatica incredibile solamente 5 gol in 8 gare ma anche in casa solamente 5 gol quindi 10 gol totali peggiore attacco del campionato e il Cagliari in casa vuole vincere come bonus dietro mi piace più di tutti Dossena ma occhio anche a Ugello non lo so ho delle sensazioni positive su Ugello o assist o gol potrebbero arrivare in questa giornata centrocampo Viola ma anche Oristanio va messi non sappiamo con certezza se Oristanio partirà dal primo ma anche lui si deve mettere perché anche in mezz'ora può far bene davanti sempre tanta incertezza io se ho la padula questa giornata lo metto dove ho la padula lo schiero titolare sull'Uvumbo dipende dalla titolarità se parte dal primo si mette lato Empoli qui vado su un nome su tutti Baldanzi che finalmente dovrebbe partire dal primo dovrebbe aver risolto i problemi fisici e dovrebbe tornare anche Ciccio Caputo davanti Caputo Cambiaghi ovviamente metto leggermente meglio Caputo perché è il rigorista della squadra il Cagliari un gol potrebbe prenderlo uno di questi tre potrebbe fare Udinese Bologna qui ci ho messo un 1-2 allora l'Udinese è una squadra che con Cioffi è in ripresa però ora sono cinque partite in cui non riesce a portare a casa i tre punti alcune partite poteva anche vincerle però alla fine i risultati di con questo non lo so dietro non mi fanno impazzire forse le scommessine più importanti sono gli esterni e Bosele e Camara che possono portare qualcosa in termini di assist nel centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di Samardic dal primo però il centrocampista che mi piace più di tutti è Pereira occhio a Pereira ragazzi occhio a Pereira perché se l'Udinese fa bonus o segna Pereira o segna Luc non vedo nonostante anche Samardic mi piaccia vedo più loro due a bonus lato Bologna il Bologna fa una fase difensiva veramente fatta bene con l'Atalanta il Sonferto soprattutto nel primo tempo hanno concesso soprattutto con Luckman un'occasione a Ederson hanno concesso un pochino però alla fine sono usciti con un clean sheet i vari posh Beuke Magalafiori se abbiamo soprattutto Mod vanno schierati sempre centrocampo Ferguson e Orsolini sono quelli da mettere gli altri sono delle scommesse che però questa giornata non mi piacciono tantissimo mi piacciono più Ferguson e Orsolini e davanti Zirzeo ormai è una certezza e si mette assolutamente poi passiamo a una partita della quale non ho certezze non ho certezze perché il Milan è una squadra che questa giornata addirittura è senza tomori che forse dietro era l'unica colonna portante era l'unico che dava certezze perché magari quando c'era qualche problema lo risolveva lui non so quanti gol possa prendere il Milan in questa giornata la coppia centrale Kier Simic non dà certezze però Kier diciamo l'esperienza c'è dal lato suo però devono fare molta attenzione perché il Sassuolo contro il Milan fa sempre bene Teo dovrebbe giocare terzino e il suo ruolo si schiera centrocampo Pulisic più di tutti per distacco sugli altri se si dà una svegliata l'off to cheek può essere interessante in questa partita perché giocando trequartista ha potenzialità da bonus Leao Giroud si devono mettere è vero che Leao è tornato e non sta facendo benissimo però bisogna dargli fiducia perché se entra in condizione è un giocatore di quelli che può fare la differenza e Giroud è vero che fa meglio in trasferta però contro il Sassuolo si deve mettere lato Sassuolo dietro solo Toljan può essere interessante per i suoi assist perché crossa veramente bene nel centrocampo forse l'unico che si potrebbe pensare di mettere è proprio Torzved sugli altri direi assolutamente no davanti Berardi si mette assolutamente perché come sappiamo è la bestialiera del Milan perché quando vede Milan segna sempre sugli altri due preferisco leggermente Pinamonti a Lauriente Verona Salernitana vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale il Verona è favorito secondo me leggermente ma è favorito se Terracciano gioca può essere un giocatore che si può andare a mettere come scommessina in porta Montipò non mi dispiace secondo me potrebbe fare Glicit o al massimo prendere un gol nel centrocampo mi intriga Suslov infatti l'ho messo come giocatore maggiormente consigliato qui porta Lazovic non so se sarà titolare perché all'ultimo non è partito titolare anche lui potrebbe essere una scommessina interessante ho messo la stellina su Foloruscio perché è un giocatore fondamentale per questo Verona sia in fase di recupero palla ma anche in fase offensiva sicuramente i due giocatori che mi piacciono di più sono i due attaccanti Duric ex di giornata assolutamente da mettere Milan Duric ragazzi e Ngonge lato Salernitana Salernitana si potrebbe mettere ma Zocchi dietro perché è vero che non sta facendo una grande annata però è pur sempre un giocatore che può andare a spingere e portarci un bonus centrocampo Candreva è la certezza di questa Salernitana anche rigorista vista l'assenza di D.A abbiamo la certezza che li calci lui occhia a Ciaunà che può essere una scommessa interessante davanti mi piace più Simì a me di Quei Mesi non lo so nessamente di Quei Mesi se lo avete se potete andarlo a mettere veramente preferisco altro e poi l'ultima partita Juventus Roma big match di giornata io vedo la Juve nettamente favorita in questo match mi piace Cesni in porta infatti ho dato un indice altissimo mi piace Bremer mi piace Danilo e anche lo stesso Gatti alla fine se lo abbiamo lo dobbiamo mettere perché è molto forte di testa e sempre può arrivare un bonus visto che questa partita secondo me potrebbe essere decisa o da un piazzato da un bel colpo di testa da parte di un centralone o da una giocata dei vari Vlaovic o Chiesa centro campo mi piace il Rabiot perché sono queste le sue partite quelle partite fisiche la Roma sicuramente la metterà sul piano del nervosismo tanti falli tante proteste e questi giocatori come Rabiot che saltano l'uomo che hanno nella fisicità la loro arma migliore possono essere decisivi la Torova qui vedo tante ammunizioni quindi facciamo attenzione magari se crediamo in uno Spinazzola si può provare anche se non è in un periodo di forma smaiante per non dire qualcosa di peggio perché aveva iniziato la stagione veramente bene tanti buoni voti ora è in fase calante centrocampo pellegrini è vero che all'ultimo ha segnato però io non sono convinto neanche che partirà dal primo può partire titolare però Boves secondo me ha fatto bene quindi potrebbe essere anche confermato quindi qui ho questo dubbio davanti Lukaku si mette ma nei big match non fa mai bene è vero che Napoli ha segnato ma ha segnato in una situazione in cui il Napoli era in nove addirittura direi otto perché Nathan era come se non ci fosse in campo e ha segnato proprio nel momento in cui il Napoli si era tutto scoperto per cercare di fare l'una uno di bala da ex può essere interessante ma non so se partirà dal primo quindi si mette sperando magari in un minutaggio decente ragazzi se vi è piaciuto questo format lasciamo un like iscrivetevi al canale ci vediamo alle ore 14 live qui su youtube poi intorno alle 15 e 30 15 e 40 in base all'afflusso delle persone che arriveranno ci spostiamo sulla piattaforma viola ma vi ricordo che Re Costa vi risponde sempre a tutti gli iscritti al canale quindi iscriviamoci sostenetemi e io sono lieto di darvi sempre una mano ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.